Ciò non significa che mi piaccia la nirvana Mr. Limpi fa stragi Ok È tornato al suo posto Ciao a tutti, io sono Ale Sono tornato, mi è tornato, mi è tornato Il nuovo video, no sense Scherzo, in verità ho un video sui cambiamenti del testosterone Io sono un anno e tre mesi di terapia ormali Sì, sono una persona transgender Questo non significa che io sia un 2M Sono una persona non binaria, transgender, ok? Transgender non binario Se non sapete che cosa significano questi due termini Andate a vedere gli altri miei video Oppure consultate Wikipedia I cambiamenti in questi tre mesi sono stati piccoli ma evidenti Cioè dal mio punto di vista ovviamente non ci sono più cambiamenti Tipo la voce, la voce è rimasta quella dagli 8 mesi in poi La cosa è che sono cambiate Principalmente noto molto di più il mondo d'amo Rispetto a prima La barba inizia a crescere in modo abbastanza decente Per modo di dire insomma Buchi, buchi Perché comunque ho dei buchi qui e qua Non mi cresce Invece mi cresce ai dati Sotto Qui Qua Cio Moccio Sì non mi soffio il naso Sono una brutta persona Almeno non tiro su Ha iniziato a crescere Hanno iniziato a spuntare dei Dei Pelletti qui Tipo E qua sotto iniziano a fare Così Sono felice di questa cosa Ho ripreso di utilizzare il Minoxidil Qualche giorno fa Forse anche per quello che si sono induriti E speriamo che questa cosa mi diano mano Magari lo utilizzerò solo per una settimana Per ridargli di nuovo la spinta Come per dire no Perché alla fine il Minoxidil sollazza i peli Oppure per usare comunque una terminologia adatta Li stimola Ok Poi se dite continuamente Li stimola Li stimola Li stimola Sembra quasi una parola intera E complicata Invece non esiste Poi un'altra cosa sono i peli Cioè Ho notato più peli Verso i piedi Poi le mani sono cambiate ancora C'è una parte delle mani in particolare Che tipo mi ha lasciato un po' di cazzo Perché Non ci faccio spesso caso Cioè in realtà le guardo Non ci faccio spesso caso Perché le guardo spesso le mie mani Perché mi piacciono E sì C'è una parte che è proprio cambiata Nonostante le mie mani Non siano cambiate spaventosamente No Poi Un'altra cosa che ho notato Sapete comunque Io ho i peli e i capelli In generale Molto Chiari Se sono oscuri È perché la luce I faretti e cose varie Sono molto molto chiari I miei capelli e tutto Ho notato più peli sulle braccia Cioè veramente sono cresciuti Molto di più Ho lasciato crescere i capelli Sembro una contadinella tipo Heidi E adesso c'ho il tic di fare questa cosa qua Che mi dà un sacco fastidio Visto che un ex mio compagno di classe Faceva sempre questa cosa qua Va tipo il ciuffetto No E faceva così E continuava a fare così Mi dà forse più fastidio Il fatto che lo faccia Regan Beast Forse non lo so Però dettagli Non so Se conoscete Regan Beast Dettagli Un altro cambiamento Io speravo di non avere i peli sul culo E tipo crescono più i peletti fastidiosi Sì È una meraviglia Veramente Ora capisco Solo ora capisco perché la gente ha inventato il termine tarzanello Non che io abbia i tarzanelli Però capisco perché come la gente possa avere dei tarzanelli adesso Già Sistema vero Il carattere non è più cambiato Cioè in verità è stato tutto un cambiamento dei primi 6 mesi O 7 mesi In verità non è che cambia il carattere Cambiano alcuni aspetti Ci sono Non so se ricordate Ho parlato di sbalzi d'umore Di cosa ho fatto più di un video su questo Video sulla disforia In cui parlavo anche di quello Un video sugli sbalzi d'umore I primi mesi Potete tornare indietro e guardarli Insomma non è cambiato più di tanto questo Un'altra cosa Che può essere cambiata Sì sono La forma delle Non io non sto stampando Ok Semplicemente veramente la forma Della fronte È proprio diversa Cioè la fronte I capelli È cambiata È diversa Ed è molto più figa Davvero molto molto più figa E sono proprio quei particolari Che in un corpo maschile noti Ad esempio Proprio il fatto di questa cosa qui Della differenza Della attaccatura del capello Sono cose Che io ho sempre guardato E che ora mi piacciono davvero un casino Un casino Un casino Un casino Un casino Di conseguenza questi sono i cambiamenti Che sono avvenuti Basta Una cosa volevo dirvi assolutamente Non l'ho mai pubblicizzata Su Instagram Io su Instagram ci sono ovviamente Nella descrizione trovate sempre il mio Il link del mio profilo Praticamente ci vivo su Instagram Molto più Che su altri social Insomma Vi devo assolutamente dire Di andare a vedere una pagina E di seguirla Si chiama Ale Crash Meme Ve la metterò più io qua Gestita da Skull Che è una persona Meravigliosa Meravigliosa Vi prego andate a seguire quella page Perché è fighissima E ogni volta che faccio uscire un video Questa persona qui Asterisco Fa uscire un meme Quindi davvero Spero questo video vi sia Ciaciuto Anche se è molto colto Colto Molto colto Molto Molto corto E taglie Molto corto E molto poco curato In generale Vi rimando un beso Ciao a tutti Al prossimo video Ciao Ciao